Chi sono i tre uomini più ricchi d'Italia? L'ultimo ti lascerà senza parole. Numero 3. Piero Ferrari. Il figlio del fondatore della scuderia Ferrari. Ha un patrimonio di 7 miliardi e 600 milioni di euro. Numero 2. Giorgio Armani. Il proprietario del marchio Armani. Ha un patrimonio stimato di 13 miliardi di euro. Prima di sapere il nome dell'uomo più ricco d'Italia. Iscriviti. Numero 1. Giovanni Ferrero. Con un patrimonio di 39 miliardi di euro, Ferrero è anche 32esimo nella classifica mondiale e quinto in quella europea.